Aldo, Aldo, oggi vive a Milano intensamente fino alle ore 22, guarda intorno, ancora di nuovo sarà monotono, la piazza Gaulenti è grandissima, è grandissima, io amo rimanere qua, sempre in movimento, io, sempre in movimento, sempre in corsa contro il tempo, nel parco, dove sono tuttora, all'improvviso. Rallento il passo e accennai un sorriso ad uno sconosciuto, poi questo sconosciuto, mediante la mascherina, pensò a me, a me stesso, ebbe uno sguardo incrociato tra gli occhi e mi disse Stasera sei a cena, al Bosco Verticale, io come potevo dire di no, come potevo dire di no, ma questa persona penso che mi abbia già visto altre volte in questa zona, Impossibile che accetti uno sconosciuto così all'improvviso che non si sa il giorno d'oggi della fiducia, ma infatti io poi dirò il nome, mi aveva già seguito nei miei YouTube. Aldo Maspero, stasera ho il favore, io mi sento piccolo, immenso, ha questa ricchezza di questa persona, però lui ha amato me il senso della cultura, il senso del colloquio, il senso del rapporto che può avere una persona su YouTube. E saluto anche tutti gli altri miei amici. Aldo, Aldo. Aldo, Aldo. Aldo.